Tovaglie, tende, borse, lampade e cuscini. Oltre 300 lavori preziosi realizzati da mani esperte. Questo e molto altro racchiude la mostra ontologica di Gubbio Ricama, associazione attiva da 20 anni, nata per promuovere l'arte del ricamo, per mantenerne vivo l'interesse, facendo capire che non si tratta di una passione da nonnette, ma un'arte moderna che può essere accessibile a tutti, anche a chi non ha una particolare inclinazione. L'esposizione, visitabile fino al prossimo 16 giugno nelle sale del Centro Servizi Santo Spirito, vuole celebrare l'importante anniversario raggiunto dal Sodalizio, che nel corso degli anni, insieme alla passione e alla riscoperta della tradizione, non ha mai dimenticato la componente sociale, incentivando incontri e collaborazioni tra generazioni diverse, accomunate dalla medesima passione per lago Il Filo e promuovendo il territorio in fiere ed eventi anche fuori dall'Umbria. Questa mostra rappresenta il percorso che abbiamo fatto in questi anni. Dopo 20 anni possiamo dire di essere orgogliose, tutte quante, di aver raggiunto questi livelli, livelli importanti. E lo diciamo noi, lo dicono chi viene alle nostre mostre, vengono fuori regione a vedere le nostre mostre, perché magari c'è sempre quell'idea in più, oppure quella fantasia diversa che può magari arricchire la creatività del ricamo. Abbiamo lavorato in tante, ci hanno aiutato tutte le ragazze, le signore che fanno parte dell'associazione, non si è tirato indietro nessuno. E questa è la cosa che più ci ha dato soddisfazione. Oltre ai complimenti, sì, che abbiamo ricevuto, bello, eh, ma noi siamo stati bene questi tre giorni perché abbiamo visto la partecipazione, il piacere di portare i loro lavori. Questa mostra, che rappresenta il lavoro di tutti quanti noi, indistintamente, nessuno è più importante di un'altra, mai stato. È un premio che noi vogliamo dare alla cittadinanza eugubina, perché qui si entra, non si paga e si vedono veramente delle opere d'arte, semplici, naturalmente, senza nessuna pretesa, però che sicuramente allietano e meravigliano spesso chi viene a visitarla. Quindi è un regalo, non solo a noi che abbiamo lavorato tutti questi anni.